ciao ragazzi dove ci troviamo antonio rocca di mezzo che ci ritorneremo quando faranno freddo se farà sempre se si scenderà sotto i meno 15 questa è la piazza principale gli abbiamo mangiato e questo paesino praticamente ti tiene qualche record sia la temperatura più fredda mai registrata in italia ti ricordi quanto quanto è il 2012 meno 39 5 comunque per il momento si sta bene sono circa 4 5 gradi a questo non c'è nessuno prima era movimentato si stava una pista campo felice qua vicino che a campo felice si sta una cosa meravigliosa c'è molta neve c'è una piazza molto grande di neve diciamo è un alto piano innevato infatti adesso stiamo andando lì un paesino veramente meraviglioso ritorneremo quando farà molto freddo sotto di 15 meno 15 gradi ok va bene buona giornata ci vediamo ciao ciao ragazzi ciao